In cucina con Matteo Dobbiamo andare zucche e allumin Tu lo sai fare? No Neanche io, perfetto Hai mai mangiato una zucca? Visto già Doccia bro, mi hai fatto una doccia Bro, qual era il tuo sogno da bambino? Diventare calciatore E rifarti a calcio Invece mi hai fatto sport? Ho fatto tennis, calcio, basket, scherma, pattinaggio Se questo video arriva a 50.000 like ti porto a pattinare sul ghiaccio Ah, io bro, fino a due anni fa Mi somigliavo a un Crispy McBacon Ero grassissimo In seguenza faccio lo schifo negli sport Io sono nato prematuro di un mese qualcosa Sai che si dice che quelli che nascono prematuri hanno dei superpoteri? Fa volare Ero così magro perché Sendo nato un mese qualcosa prima Il corpo ci ha messo più tempo a svilupparsi Le medie, diciamo, ho preso un po' in giro per questo Mi è servito perché mi ha dato la motivazione per andare in palestra e migliorarmi Visto se avete insicurezze Fate sì che queste sicurezze diventi il vostro punto di forza E per altri video